oh ciao ragazzi come va spero che abbiate passato dei momenti memorabili con i vostri cari che abbiate mangiato e bevuto a dismisura perché bene eccedere durante questo periodo dell'anno non ho fatto a tempo a fare nessun video nessuna recensione per natale e comunque ci tenevo a mandarvi i miei calorosi auguri auguri a tutti e ci rivedremo tra pochissimi giorni sicuramente con altre recensioni di tabacchi video spensierati video cazzaroni e parleremo anche nuovamente di sigari perché un po trascurato quest'ambito ultimamente però torneremo a divertirci quindi ci vediamo e ancora tantissimi auguri ciao